Come tempistiche, visto che siete tra gli ultimi arrivati, in questo senso quali sono stati i segnali che si porta a casa in vista del campionato? Ma soprattutto il fatto che ci arriviamo alla settimana, che eravamo soltanto due e due over, tra virgolette, e tanti ragazzi in settimana, l'obiettivo sarà quello del direttore e la società completa della squadra. Quindi io sono paradossalmente soddisfatto, perché il nostro obiettivo era, avevo tantissimi dubbi sul fatto che te allinei una settimana, sei a 45 minuti, è già importante. Invece siamo stati, comunque si è partita, e sono stati bravi ragazzi, perché è chiaro che adesso siamo ancora completamente in fase milionare, però non siamo ancora a squadra, però comunque si è dovuta con i miei ragazzi. Non siete squadra, però c'è poi magari l'aspetto mentale, la testa, eccetera, no? Potevamo magari diventare una partita, non dico pesante anche come risultato, eccetera, avete provato a riaprirla, avete avuto una buona occasione nel secondo tempo, cioè paradossalmente quasi nel secondo tempo più pericolosi che nel primo, no? No, è la verità, è la verità, la verità, è la verità, è la verità, perché nella mia testa ho paulo di prendere, potessi piego, con un risultato più rotondo ancora, e quindi il fatto di essere stati in partita, contro la squadra che sono stata giocata da 40 giorni in partita, molto prima di noi, ribadisco, sono soddisfatto. Ora ci aspetta una settimana dove arriveranno giocatori e abbiamo una settimana per provare a Olbia. È chiaro che inizialmente un'altra mission è impossibile, ma ci sono le condizioni per farlo. Grazie. Quindi anche il fatto che avete sofferto un dubbiamente dietro, anche sui calci piazzati, con la preocco più di tanto, la luce di Dolby Arcanadella? Ma infatti noi abbiamo avuto sì in un tempo di parlare di cinque minuti, quindi di abbozzarli in settimana con l'arrivo di giocatori. Se non analizzare la partita vedo che abbiamo preso tre gol da ragazzi, questo è il tre gol che potremmo sicuramente evitare. Abbiamo fatto ribadisco una partita bozzata, ma sono contento perché i ragazzi sono impegnati e la cosa fondamentale per noi è fare 90 minuti e non ci facessero male. Ok.